Significa che diventa cittadino, una persona che quando uno diventa maturo, quando uno diventa adulto, entra a far parte della società con delle responsabilità, con dei doveri, giusto? Come dovrebbe fare ogni cittadino, cosa che ne hai mai fatto tu, tu non ti sei mai integrato nel tessuto sociale di questa città ed è quello che manca alle nuove generazioni, che una volta a Napoli aveva una tessitura sociale, e io dove facevo la cava così, avevo una tessitura sociale che le facevo un'isola felice Ah, il capo è bello! E parlo con me, ma parlo con me, ma parlo con me, qui nell'aria, qua c'è la capi, ti mando un sacco fino con il panissimo Te l'ho presso una sedia, mi vorrei sedere 5 minuti e mi vorrei guardare il professor per comprare la città Gennaro! E che stanno tutti infilate? Hai visto qua? Gli operai, se ne sono andati, hanno lasciato tutte le sedie infilate Ma queste sono le sedie che abbiamo tutt'altro? Sì, le sedie che servono per la festa! Ma perché lasciate infilate? Eh no, lo so, noi dobbiamo spilare! Spilare? Sì, sì, io sono amici tra un problema, assolutamente! Spilare? 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 Spilare! Spilare? Spilare, spilare E pasci la mano, che vadano tu! Vedete? Si devono sfidare tutt'altro qua, ci vuole uno scaletto! E a ruby, in giallo! Spilare? Un scaletto? Spilano con domini... Eh no, no, a ruby! Potete guardare a ruby! Ma tu parli indiato e tu? Chi parla? E non parla indiato? Non parla indiato, ma parla indiato! Eh, vai, parla indiato! non c'erano non c'erano e che riprendi ma non me lo so ma non mi ha mai il calcio ah no dicevo a roviglia ma quando? adesso ha detto a roviglia che sarebbe scaletto indiano no a roviglia dove lo prendo? no dove lo prendo? in indiano scaletto si dice a roviglia no a roviglia c'erano a roviglio cioè i non vedono mai sui scaletti no a roviglia va a roviglia a roviglia roviglio non fai rovigli in indianali c'erano scaletto e non fanno roviglio ma chi è e che ti ha ammazzato faccio no scaletto non ce l'ho perché? ho prestato a pondomini a fiango no fai delle le stigione c'erano non faccio ma con le serie di così andate Prendetevi una serie a poltroncina, quelle che sa di sotto, mozzateci con un po' sera. No, 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 di mozzatevi a poltroncina, quelle sono prenotate stasera. Ah, scusala, io voglio la F. Ma che sa, ma te altre, che prenotate? No, no, sono prenotate per i DIPF della festa. I DIPF, ma tu stai notando? Sono stati puliti, si svolteranno. Siete, chiamo tutt'ora, veramente, ma state a me i miei numeri, vabbè la stasera, vabbè la sporco. Sì, si sporcano, perché è pericoloso, perché 5 minuti, 5 minuti può succedere di tutto, sopra un terrazzo di una poltroncina innocente. Ma stiamo sicuri? Ma che succede? Che sta nei piccioni, i piccioni fanno la tappa.